carissimi amici insisto ancora sulla previsione in gioco di ambo infallibile 2 è pronto a vincere attenzione assoluta sto insistendo molto su questa previsione perché voglio che siamo in tanti a prenderla e a vincerla prendete tutti questa previsione perché andiamo a vincere lambo a ruota la previsione già in gioco dal 4 febbraio massimo 13 colpi palermo venezia vi ho già regalato nell'altro video lambata 74 anche seconda e terza posizione come sempre sei ambi palermo venezia modalità vincita avvenuta quindi pagamento soltanto se esce lambo secco ma vi dico prendete questa previsione quando si presenta la condizione ideale di gioco per ambo infallibile 2 si va a vincere senza margine di errore vi faccio vedere che cosa ha combinato ambo infallibile 2 con l'ultima condizione di gioco che avevamo quando si è presentata dove avevamo il capogioco 42 e su palermo il 2 gennaio abbiamo vinto un doppio ambo secco 42 47 42 48 doppio ambo quindi immaginate la potenza di questa previsione e non si può non prenderla contattatemi o via mail o al numero quindi via whatsapp 348 75 47 715 che vedete qui questa è stata l'ultima bellissima vincita ottenuta e mi aspetto un altro bellissimo esito di ambo secco non perdete assolutamente ambo infallibile due sia questa previsione ma ogni volta che andrò a presentare la condizione va presa ad occhi chiusi perché ha un'affidabilità altissima la condizione di gioco specifica è qualcosa di incredibile quindi mi raccomando sto insistendo su questa previsione perché mi aspetto una bella vincita e voglio che siamo in tanti a portarci a casa l'ambo secco per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto grazie a tutti